A Zacinto di Ugo Foscolo, lettura, analisi e commento. Il sonetto foscoliano è stato composto tra la fine del 1802 e l'inizio del 1803. E compare appunto nell'edizione del 1803 dei sonetti di Foscolo. E' un sonetto che ci richiama l'idea del mare e Foscolo lo ha voluto precisare giocando con il termine onde e acque nelle due quartine. Come vedete appunto sponde, giacque, onde, acque, feconde, tacque, fronde e acque. I termini appunto in maniera alternata richiamano questi due elementi importanti del mare. Ma naturalmente il gioco delle rime non è mai fine a se stesso. Questa poesia dedicata a un'isola, quindi a terra circondata dal mare, si conclude con un ultimo verso che è il lapidario, dove compare questo aggettivo, il lacrimata sepoltura. Tra tanto male la sepoltura è priva di lacrime, e cioè è priva di acqua. Andiamo a vedere la struttura sintattica di questo componimento. Come potete vedere, questo è costituito da due periodi. Il primo che interessa le due quartine, la prima terzina, e l'ultimo periodo che interessa l'ultima terzina. Vediamo in maniera specifica in questo sonetto l'operazione fatta da Foscolo sul sonetto di impostazione petrarchesca. Laddove avevamo appunto con Petrarca un sonetto in cui le strofe si concludevano con una pausa determinata da un punto fermo, da un punto e virgola, da due punti. Qui invece abbiamo le prime tre strofe unite tra loro senza appunto pause alla fine delle strofe stesse, la prima e la seconda, e anzi, con degli acciambemans molto molto forti. Pensiamo appunto al vergine, nacque e venere, dove appunto c'è quel nacque e venere, adesso collegato a sua volta che richiama, e si richiama all'aggettivo vergine, al termine vergine, e dall'altra parte naturalmente abbiamo l'acque e canto fatali, dove abbiamo appunto il canto che separa, ma nello stesso tempo unisce, acque e fatali. E concentrandoci appunto sulla struttura di questo primo lungo periodo notiamo la presenza di ben sei relative che appunto sono state messe in evidenza con questo colore verde, quindi ove, che, da cui, onde, che, per cui, intervallato da alcuni periodi legati, per esempio da Efea, diventa un periodo molto complesso per appunto dare libero sfogo ai propri sentimenti, appunto questa enorme interiorità che Foscolo ha e che vuole esplicitare in questo modo. Possiamo fare anche una breve riflessione sui tempi verbali e notiamo come a prevalere sono due tempi verbali, il passato, passato remoto appunto, giacque, nacque, fea, tacque, cantò e baciò, e il futuro, toccherò e avrai. E andando a lettura appunto della poesia notiamo che i passati remoti sono legati o al mondo della fanciullezza, quindi al passato appunto di Foscolo, oppure al passato, possiamo dire più in generale, rappresentato dal mondo antico e quindi dal mito, dall'Odissea, da Omero. Mentre per quanto riguarda il futuro vediamo che i due futuri presenti, al primo rigo e al terz'ultimo, sono collegati al tema dell'esilio, appunto l'impossibilità di tornare a toccare le sacre sponde di Zacinto e appunto il fatto che il figlio non tornerà, ma tornerà il canto del figlio in questa materna terra. Come abbiamo visto per la poesia alla sera, anche in questa poesia abbiamo il vocativo in forte posizione, anche in questo caso nel terzo verso. Andiamo a vedere un pochettino tutti quei termini, quelle frasi, in qualche modo portano a questo vocativo di cui appunto abbiamo parlato precedentemente, cioè alla terra materna, a Zacinto. Zacinto è identificato, è anzitutto come quell'isola dove il mio corpo, fanciulletto giacque, dove il corpo appunto del poeta è stato accolto come in una culla, una metaforica culla. Naturalmente Zacinto è la patria di Foscolo e quindi come tale ha tutte le caratteristiche proprie della patria, cioè le sue sponde sono ovviamente sacre e la terra ha un valore affettivo molto forte, tanto da essere chiamata appunto materna e mia. In questo caso quindi vediamo come il tema di Zacinto, le occorrenze riguardanti l'isola di Zacinto vanno a richiamare direttamente le vicende biografiche del poeta. Ora invece andiamo ad analizzare tutte le occorrenze del mondo classico. Abbiamo detto nella lezione introduttiva al canzoniere di Foscolo che la tradizione italiana rappresentata da Petrarca e da Alfieri e le sue vicende biografiche si intrecciano con i costanti, continui rimandi al mondo classico che ovviamente per ragioni anche autobiografiche Foscolo sente molto molto vicino. Ed ecco quindi che l'isola di Zacinto richiama immediatamente il luogo appunto in cui si trova cioè il mare greco e qui ovviamente scaturiscono in una specie di gioco gli scatole cinesi tutti gli altri riferimenti al mondo antico. Troviamo appunto Venere qui rappresentata non tanto come dea dell'amore quanto come quella divinità che è generatrice di tutte le cose come la troviamo appunto in Lucrezio nell'Alma Venus del Dererum Natura. Poi troviamo naturalmente la bellezza della natura che appunto è stata opera di Venere stessa e riferimento all'incrito verso di colui che l'acqua e canto fratali e appunto con colui c'è l'evidente riferimento ad Omero e su questo aspetto naturalmente torneremo tra poco a dire qualcosa di più preciso. Alla fine della prima terzina troviamo l'evidente riferimento al binomio Itaca Ulisse e allora andiamo a vedere il primo confronto Foscolo con Omero Omero compare abbiamo detto in quel colui quella persona che ha cantato le acque fatali e naturalmente acque fatali nel senso che sono le acque della peregrinazione di Ulisse che torna a casa perché così il fatto ha stabilito dopo anni di peregrinazione perché appunto una divinità il dio dei mari appunto Poseidon aveva fatto di tutto per intralciare ritardare il viaggio di ritorno di Ulisse da Troia e Omero diventa appunto il cantore di questo di questo viaggio di questa avventura e vedremo appunto quanta importanza avrà la poesia il canto e il valore che Foscolo darà nel Carme e Sepolchere la poesia come l'unica che può rendere eterno ciò che è passeggero se non ci fosse stato Omero naturalmente noi non avremo avuto notizie di Ulisse o comunque il personaggio disse che è reso immortale da Omero ma questo discorso torneremo commentando il Carme dei Sepolchere così come troviamo appunto l'occorrenza di Omero all'ultimo verso troviamo ovviamente il riferimento a se stesso tu non altro che il canto avrai del figlio ecco si insiste sulla parola che appunto ho anche sottolineato canto l'unica cosa che tornerà a Zacinto è il canto ma è un canto come abbiamo detto prima che renderà eterno e quindi immortale il figlio cioè Foscolo o per meglio dire naturalmente quello che Foscolo avrà scritto e cioè le sue opere e per Zacinto naturalmente in particolar modo questo bellissimo sonetto altro tema ricorrente che abbiamo già visto essere sia nel romanzo dell'Ortis che anche nei sonetti che abbiamo analizzato è quello dell'esilio il tema dell'esilio compare in due posizioni forti della poesia cioè all'inizio e nell'ultima terzina all'inizio appunto c'è la frase lapidaria quasi non è più mai toccherò le sacre sponde quindi questo esilio che durerà per sempre per tutta la vita e quindi il poeta non potrà mai più tornare alla sua zante e l'esilio ritorna appunto in chiusura di questo sonetto con non solo il riferimento al canto cioè l'unica cosa che tornerà di tuo figlio è il canto ma anche l'altro elemento che abbiamo visto altre volte legato comunque al tema dell'esilio e cioè una morte una sepoltura lontano dai cari e cioè la paura di essere seppelliti lontano appunto dalle persone a lui care e quindi la paura di una sepoltura priva del conforto delle lacrime l'altro elemento importante è il binomio Foscolo Ulisse in particolare Foscolo viene rappresentato come l'eroe bello di fama e di sventura qui Foscolo consegna il romanticismo il classico eroe che poi chiameremo e definiremo romantico cioè un eroe sicuramente affascinante ma anche un eroe che riceve il suo fascino proprio dalle sue avventure o meglio dalle sue sventure quanto più è sventurato l'eroe tanto più sarà bello e anche grande possiamo ricordare in questo caso il soffressi grande di Manzoni ma oltre a questo Ulisse viene ovviamente rappresentato così come ovviamente Omero voleva che venisse rappresentato il suo personaggio e cioè come l'eroe del ritorno Ulisse dopo un lungo peregrinare baciò la sua petrosa Itaca cioè è tornato alla sua isola un'isola sassosa un'isola petrosa un'isola dura però la sua isola la sua patria e quindi Ulisse è l'eroe del ritorno diverso sarà invece l'esilio di Foscolo e in quel diverso c'è una connotazione molto forte in senso latino va riegato mentre Ulisse comunque dopo un lungo peregrinare tornerà nella sua patria e Foscolo invece dopo un lungo peregrinare comunque non tornerà nella sua patria e allora l'invito che Foscolo rivolge alla alla sua terra non questa invocazione o materna mia terra tu avrai del tuo figlio soltanto il canto quindi il Foscolo eroe moderno non è l'eroe del ritorno ma è l'eroe che del continuo peregrinare del Wanderer romantico un'ultima considerazione per concludere questa breve analisi del sonetto a Zacinto e cioè il tema della morte il ricorrente tema della morte anche questo come quello dell'esilio che è presente nell'Ortis è presente anche nel sonetto alla sera lì appunto paragonata la sera appunto alla morte è presente anche nel tema nella successiva poesia in morte il fratello Giovanni e ovviamente nell'opera del karma dei sepolcri anche qui è presente in una posizione forte cioè alla fine del sonetto con questa appunto sepoltura illacrimata un poeta appunto sta riflettendo su questi temi e arriva alla conclusione che questa sepoltura non compianta la paura il terrore di Foscolo e questa sepoltura appunto non compianta non lacrimata appunto dalle lacrime dei superstiti di chi appunto rimarrà sulla terra e potrà ricordare questa persona morta di chi appunto